Cambiamo pagina, il calcio a Treviso non è solo sport, è anche sociale stare insieme e anche scuola. In particolare i ragazzi della scuola Edile sono stati i protagonisti di un vero e proprio restauro e abbellimento dello stadio Mobono Tenni di Treviso. Sono stati consegnati nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria del muro di cinta dello stadio Mobono Tenni, eseguiti dagli studenti della scuola Edile di Treviso. I ragazzi del secondo e terzo anno, nell'ambito del progetto Imprese Civile Edile, hanno infatti contribuito alla manutenzione di un'opera di interesse pubblico. Quindi la fortuna di avere nel nostro territorio la scuola Edile credo che sia davvero importante e questi sono i risultati del loro studio e della loro voglia poi di mettersi a disposizione della collettività. Prima di tutto è un ringraziamento ai ragazzi perché si sono impegnati in poco tempo a demolire e raschiare il muro esterno e cominciare un primo tratto. È un primo tratto che noi abbiamo dato alla disponibilità subito quando c'è stata chiesta attraverso la società, con un accordo anche con un sponsor del gruppo Grigolini e attraverso anche la collaborazione dell'ufficio tecnico del comune. La scuola Edile ha messo in proprio la seconda e la terza e ha dato così risalto alle proprie capacità. Il risultato è sotto l'occhio di tutti. Una convenzione stipulata lo scorso 2 ottobre con l'amministrazione comunale di Treviso per creare un contesto adeguato e stimolante per le esercitazioni pratiche. Un intervento che ha visto all'interno della sala stampa dello Stato il riaffacimento del logo della squadra di calcio della città. Queste attività interdisciplinari tra l'attività didattica e l'attività lavorativa applicata poi in una struttura che adibita soprattutto all'attività sociale rende questa iniziativa al massimo dei risultati che può produrre. Sicuramente questo nuovo corso è il corso del fare e anche queste piccole cose sono dei mattoni, dei piccoli mattoncini che vengono messi su questa struttura che speriamo cresca sempre più forte e consolidata. Grazie. Grazie a tutti.